Benvenuti al meteo. Nuovo stop all'anticiclone, il flusso perturbato atlantico raggiunge l'Italia, tempo in progressivo peggioramento sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 21 gennaio. Sul Veneto cielo molto nuvoloso, in mattinata bassa probabilità di piovaschi salvo per locali e brevi fenomeni. Con il passare delle ore piogge in graduale estensione fino a diventare diffuse e localmente anche intense. Sulle Dolomiti neve fino ai Fondovalle, sulle Prealpi invece intorno agli 800 millimetri, venti moderati da sud-est sulle zone di pianura. Temperature in aumento, minime tra lo 0 e 2 gradi, valori massimi compresi tra i 4 e i 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto sin dal mattino, ma precipitazioni via via più estese a partire dal pomeriggio e risulteranno anche forti in serata. Temperature minime tra 1 e 8 gradi, massime invece sugli 8-12 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui il tempo risulterà instabile con pioggia e locali nevicate a bassa quota, specie sui settori meridionali della regione. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 4 all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.